Buongiorno, sono Valentina Vandilli e mi occupo di relazioni commerciali tra aziende sviluppate attraverso i canali social, nello specifico attraverso LinkedIn. Quali esigenze hanno le aziende oggi? Quelle di comunicare fra di loro, quelle di riuscire in qualche modo a trovarsi prima di tutto, a parlarsi del modo giusto e a stringere delle relazioni. L'online ci aiuta, però ovviamente è solamente il primo step per farci entrare magari in aziende dove non saremmo mai potuti entrare con i metodi classici. Perché? Perché c'è il muro, il muro della segreteria, il muro di altre persone che non ti fanno arrivare fino all'amministratore delegato, fino alle figure di riferimento oppure anche alle figure tecniche. Bene, LinkedIn e in generale le relazioni online, il marketing relazionale, una branca del marketing, ci permette di entrare in relazione attraverso questi strumenti digitali, pur non essendo diciamo dei tecnici. Quindi attraverso delle chat su LinkedIn, attraverso dei contenuti, attraverso dei gruppi. Ci sono moltissime tecniche che si possono utilizzare e ci permettono di arrivare a parlare con la persona giusta. Da qui la domanda, cosa dire alla persona giusta? Cosa dire alla persona che ci dovrà presentare questa persona giusta? Bene, va creato un protocollo aziendale. Finalmente i social non sono qualcosa di intangibile, ma qualcosa di assolutamente concreto e misurabile, per esempio attraverso il tuo CRM o anche attraverso un semplice foglio di Excel. Come? Misurando le azioni che si vanno a compiere. Un protocollo è semplicemente un insieme di azioni che ci porta un risultato. Quindi queste azioni vanno ripetute nel tempo dei tuoi commerciali o direttamente da te se sei un freelance o un amministratore di una piccola azienda. Queste azioni quindi andare a creare una rete, quindi cercarti delle persone su LinkedIn, le persone giuste, cercarti i contenuti giusti con i quali interagire per essere visibile magari come azienda o come singolo a quella persona nello specifico. Sono tutte delle azioni che vanno messe all'interno di un protocollo e finalmente l'azienda avrà la sua origine del passaparola. Sapremo esattamente dove comincia, da chi comincia e dove va a finire. Questo ci permette di avere il controllo sul passaparola, cosa che è praticamente impossibile con i metodi tradizionali e anche qualcosa in più, cioè la facilità di stare davanti a un computer e di far acquisire da parte di un tuo dipendente o da te direttamente una serie di contatti di qualità da utilizzare come vuoi. Potresti mandare dei commerciali, potresti andare tu direttamente, potresti inviare delle risorse, dei campioni. Questo permette anche di lavorare molto bene con l'export. Perché? Perché ovviamente ci sono dei problemi logistici, quindi dobbiamo fare export con Francia, America, Svezia, quel che sia. Andiamo a creare delle relazioni con le persone che vivono lì e a quel punto abbattiamo anche i costi di trasferta eventuali per il primo contatto. Quindi no porta a porta, ma creazione di una relazione online per poi andare a creare una vera relazione magari fisica o in videoconferenza o come tu vuoi. Questo è un grande vantaggio, un risparmio di energie, una focalizzazione su quello che è il vero passaparola di qualità e anche il risparmio economico di trasferte di tutto quello che porta dietro appunto a far spostare delle persone per andare a fare un primo incontro. Quindi, ricapitolando, abbiamo a disposizione uno strumento che ci permette di essere ovunque nel mondo, ovunque in Italia e di raggiungere le persone andando a creare un vero rapporto, un primo passo per un vero rapporto commerciale. Ma adesso voglio sfatare un falso mito. Ci vuole troppo tempo per ottenere relazioni commerciali online. Non è così, ma non è così nemmeno nell'offline. Un bravo commerciale, sicuramente avrai notato, non ha bisogno di fare grandi cose anche quando passa da un'azienda all'altra. Perché? Perché ha creato una rete di qualità. Certo, si rimane sempre nello stesso settore. Quindi la rete di qualità, come su LinkedIn, come nella propria rubrica del cellulare, è la base per ogni rapporto commerciale. Prima ci si crea una rete, dopodiché si va a creare relazione. Quindi la stessa cosa su LinkedIn. Andiamo a crearci una rete, a scegliere le persone e poi a creare relazione. Ma non deve essere lunga. Dobbiamo subito portare la persona a un appuntamento conoscitivo. Questo è fondamentale. Da qui un'altra domanda. Ma io non voglio stare in chat tutto il giorno. Io voglio ricevere direttamente il contatto dell'azienda e andarci fisicamente. Bene, questo si può fare. Quindi se la tua rete vendita non vuole mettersi una mezz'oretta, un'oretta davanti a LinkedIn tutti i giorni o qualche giorno a settimana per ottenere dei risultati commerciali, cosa puoi fare? Puoi formare uno o più inside sales. Gli inside sales ti permettono di avere una persona dedicata x tempo al giorno, questo lo decidi ai tu, solo per fare acquisizione di contatti. Da passare poi a commerciali. Questo è fondamentale perché spesso appunto il commerciale, se è un commerciale itinerante, non ha tempo per fare questa attività. E quindi in questo caso LinkedIn ci viene incontro e ci permette di far raggiungere un inside sales tutte le aziende che vogliamo in Italia e all'estero. Bene, adesso hai capito come utilizzare LinkedIn o meglio? Quali sono gli obiettivi che puoi raggiungere? Chi puoi impiegare del tuo personale per utilizzare LinkedIn al meglio? E anche abbiamo sfatato alcuni falsimili. Ma non è tutto. Se vuoi veramente capire come può LinkedIn, il marketing relazionale, andare a sviluppare il tuo passaparola, potenziarlo e controllarlo come abbiamo detto prima, qui sotto trovi un modulo da compilare in modo che possiamo organizzare una call insieme e capire esattamente come utilizzare LinkedIn per la tua azienda. Questo è tutto, io ti saluto e ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Ciao da Valentina.